auguri di buon natale auguri di buon natale auguri di buon natale e felice anno nuovo buongiorno e bentornate a una nuova sfavillante puntata del tg09 questa puntata è sfavillante come noi che siamo vestiti così in occasione del natale e accademia ha festeggiato il natale sabato 14 dicembre al go ganga ed è stata una festa stupenda c'eravamo tutti ma veramente tutti e tu c'eri ricetto che c'ero no perché non ho visto ah beh io non sto con le persone che non contano e le premiazioni invece si sono svolte sabato 14 ma di mattina e pensa che quest'anno ha votato anche il pubblico sai anche che ha vinto certo secondo il pubblico come miglior attore ha vinto giacomo di deo e invece come miglior attrice elisa belicchi ma elisa belicchi non è stata votata anche dalla giuria d'accademia si è stata votata come miglior attrice anche dalla giuria d'accademia pepem ha fatto il botto elisa complimenti e come miglior attore la giuria d'accademia ha scelto invece massimo golizia inoltre la giuria ha dato anche altri tre premi come miglior sceneggiatura ha vinto il corto dream soldiers di tam sirsi come miglior regia ha vinto il corto il color del silvido di jean carlos gonzalez flores e come miglior cortometraggio ha vinto nicole pagin col suo timeline inoltre il pubblico ha detto la sua anche in questo caso ah sì sì e chi ha vinto hanno vinto in ex equo nicole e carlos complimenti ragazzi sono successe tantissime cose negli ultimi tre mesi in accademia e vi salutiamo con un piccolo regalo di cuore un felice natale e un buon 2020 da rita da gianluca e da tutta accademia 09 tanti auguri vediamo come nuovo docente in accademia leone pompucci regista che si estende nell'arco di 18 incontri per comprendere il linguaggio del corpo puoi stare zitto per favore dopo lo faccio io la seconda notizia notizia 2 scena 1 buongiorno ci vediamo alla prossima puntata del tg 09 ci vediamo presto dai ragazzi io vado a fine dai 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 rita mi riesco componiti rita 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 e abbiamo festeggiato il natale il 14 dicembre al go ganga gian carlos e nicole pagin come miglior contro cortometraggio sono successe veramente tante cose grazie 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 a tutti.